dai vai tra e c'è a tutti e vai 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 allora fatti dai che puoi... eh no te stavo a fare con... 3 2 1 0 Allora, quello che avete sentito adesso Eh, hanno parlato tutti e due Uno è Witherboy Eh, ciao E l'altro che adesso farà ciao Adesso è Ciao Tu mi hai detto di far ciao Beh, vi dico io chi è E' ThePlayer96 Che farà ciao un po' Ciao No, ma scusa Secondo me è inutile presentarci ogni volta Perché tanto ormai sanno chi sappiamo Sanno chi siamo Sanno chi sappiamo Siamo su Dione Che non è una bestemmia Il nome di Genesi E' coglione Che ti faccio un bel Pompone Pompone E' anche un succione A chi lo fai? A te Mi asco Questo è un po' Cioè, rido io Cioè, ma ragazzi, io mi sto chiedendo, no? Saturno è un pianeta gassoso Come cazzo facciamo a starci dentro? Ma ti fai anche domande tu, eh, mi dici Io ti dico che questo pianeta gassoso l'ha originato Oddio E' stato Witherboy a crearlo E' stato Witherboy a creato Saturno Il coso gassoso di Saturno No, in realtà sono stato io con uno scurreggio Ah che la ha Eh sacco, non ho mai sentito No, comunque Svdio, 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 svdio Eh, qua 3D In contemporanea Oh, mi scappa la cacca e mi chiedo guarda io scappa da cacca guarda aspetta vado a fare la cacca mi schivo eh cacca è gassosa no do cazzo vissan ah dovevamo distruggi i macchinari nooo su 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 tanto se... oddio quello in calore si si oddio questi non li sopporto no manco io dove l'ambulanza? eh casa mia stanno venendo a prenderlo per la psichiatria si oh matto oh matto ma ti rendi conto lo che stai dicendo? eh si si oddio è l'accato in una maniera impressionante eh vabbè uno fa il suo posto oddio questo è oddio 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 un esploso qualcosa oh ragazzi eh power cosa? è vero oh rosso verde blu manca giallo eh no ma la mente l'abbiamo detto anche nei nevi vabbè niente non vi ricordate un cazzo? e io non mi ricordo no me lo ricordo perchè ero in power ranger contro britney spear eh bene cosa non me lo ricordo oddio me son lanciato oddio ho fatto una cazza via oddio oddio ho messo una droni ma hai visto dove son finito con un salto questa qui questa qui questa qui questa qui questa qui questa qui non capisce più niente adesso poverino che che sto porla eh eh ma c'è un comizio e c'è come si nell'episodio scorso da me e adesso da wither c'è oggi non mi vengono i nomi delle persone ranzi c'è ranzi lì? chi è ranzi? eh veramente le f grillo che? che grillo ma c'hanno guarda come rite video game dove sei? ernella hai rimasto indietro c'è l'armatura pesante pesante oh cristo dove vai? indietro oddio non mi fa urlare prego come fai a stricciare? acromazie eh snift 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 si che devi sniffarte qualcosa no ma lo shift si vedo con letta tu è caduto è caduto è caduto è caduto non mi spiegate perché nei video io rimango sempre da solo e vado avanti non sei da solo guarda tanti guarda tramite ma fai lo shift poi? c'è ciao ma non mi circola guarda guarda se viene che che ne spara? è contro il comorio non è il shift è contro troppo un attraverso il cittadino scivolando allora per me testo testo che da dietro ma questo pare acrobazie strane oddio sono volato veramente sono fuori dai si sei fuori da test vedi un buco ci fichi dentro oh è ovvio in questi due video in questi due video in questi due video wither non ha detto neanche una volta oh non fate gli spiritosi che non mi piacciono no sul serio stai hackerando dai che non sai hackerà ma dai che non sai hackerà cosa vuoi se io sono nato 3d ho giappurato via ma no bisogna andare qua no 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 c'è una password guarda oh c'è megan fox però c'è la password eh la password la password ma venite qua la password award ahahahahah la password esatto eh si eh si perchè è talmente famosa no che quando c'è qualcuno mette la password oh starà sacco tutti i macchinari starà sacco ma gli parli sopra lascelo parla no parlavo di penetrazione ehm ehm con la password con la password guarda guarda ma dove state io non capisco io ho trovato un macchinario vieni 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 c'è nel frattempo che voi due non state facendo niente io ho spaccato il macchinario no qui sono andato a spaccare il macchinario e io ne ho rotto uno io non riesco a prendere le cose blu ah forse c'è la direzione da male le cose blu si quelle scuole blu le palle si hai fatto saltare di là i vieni 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 ci ho fatto lo stesso io pure il no ti stai usando sto usando i cheat vieni è distrutto il macchinario io sì ma aspettate un po no 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 e ho questo che scarabombe oddio è vero questi erano quelli pericolosi si e non più che c'è c'è oddio c'è sta napalma al volo di detonite non è è bene c'è sta napalma aiuto e ti sto ammazzando lo sto ammazzando non è vero lo sto attaccando da un suo oh guarda lo sti cieco fatti gli occhi del dietro mettete gli occhi del dietro si me li stacco e me li incollo nel culo oddio e le chiappe con gli occhi farebbero impressione le chiappe con gli occhi secondo me sono le buon che stai dicendo questo ha detto che si mette gli occhi nel culo ha detto ma no dai dietro ma sono cioè io quando ma quando dico dietro mica sempre il culo va bene le spalle oh ma neanche e dove e adesso nella mucca nel bene ho un macchinario il macchinario dai dai spara 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 ma chi spara madonna quanti so madonna quanti so sto a morir ecco oddio questo forte c'è animus chi io devo prendere una una pistola cambio cambio arma questa cosa ma io c'ho talmente tante munizioni che non le finisco le ultime parole famose prude la schiena ahhh 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 forse ho gli occhi nella schiena anch'io ahhh 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 come si fa c'è nella partita revival che si fa eh eh questo perché avevo detto che le bella bella oddio tepe che sta a morir non è vero ero scivolato ma che vuole questa che c'è calore io li vado a prendere vicino proprio ci vado che che va a prendere sto qua questo è manio si vado vicino vicino macchinario eh oh perchè nessuno mi aiuta mai oddio pensavo pensavo fossi te c'è l'astutizio mannaro no quello che la donna lì parla tanti trenti trenti stiamo indietro ottimo lavoro grazie si grazie brella puttana oddio ho trovato come tale capriole grazie saranno sei molto gentile guarda me guarda me guarda me guarda me faccelo capriole eh sai che c'è vuole oddio c'è guarda che soffaio look me look me look my brothers e acrobazie sul muro eeeh bravo chi è che è stato di quell'altro questo sei droga io niente io non devo sparare devi schiacciare sbara spazzatrice sbara spazzatrice sbara spazzatrice sbara spazzatrice c- eeeh oddio mo se ne eeheh io te lascio qua e buon divertimento io me ne sono già andato allora aspetta dove sei andato io ero io lì ottio lascio tutti i nemici indietro teinchè ci sta una palma qui e seppri saliti e segui il pallií no ehi che non so il palline e pirellino vabbè e segui il pallino oddio e mo dissanguamento, di prego c'è il dissanguamento non mi aiuto guardate che bastardo wither che non mi aiuta eh si c'ho le mie cose no no t'aiuto più madonna c'ho le mie cose c'è il dissanguamento guarda che ti penso guarda tutti i nemici ah che ro se vuoi ti vende un ciclo ma cosa me me vende il ciclo dov'è questo che ti appende fuoco? e c'è una palma fai che sboccialo sboccialo messaggio subliminale la gente deve comprare più bicicletti eh si per andare a spasso ricordiamo di comprarle da negozio ma vada questa si fa la compagnia oh oddio nel fuoco oddio corri che è pieno di nemici che sono nostri amici oddio io ho castrato le gambe ma perchè te ne vai a fanculo madonna lo so che ti piace però c'è boh ma da dove sei arrivato? e sala qui si si ma mi sei uscatto con una scimmia da un albero oddio cioè ragazzi dovete riguardarmi il mio video per vedere che cacchio ho confinato si l'hai visto? no io il tipo sono andato ho beccato il paletto e sono cascato da sotto ah è bellissimo ok siamo arrivati ah questo qua su 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 e cosa facciamo? come si fa? come si fa? guardalo 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 lo sta facendo ci sono perso oh vieni qua vieni qua come va? tu vieni qua valla a prendere valla a prendere vieni qua dietro di rischiare sbarra spacciatrice Sbarra, spazio Dai Io sono entrato in un tunnel Oddio Ah, c'è il bivio No, 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 c'è il bivio No, 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 paura, paura Aiuto, mi sono già perso Ecco, mi sono perso Mi fermo, io ragazzi mi fermo Mi sono perso Ma come sei perso? Sono entrato in un tunnel e c'è un bivio Non ci sono mai bivio Vedo di te Ah, ecco, ti vedo Aiuto, quanti Ma c'è sta il pallino verde Ah, è vero Aspetta, non andate Poi c'è sta qualcun Che cos'è? Plastide Eh sì, serve per farti la clirurgia plastica Oddio, questi qua stanno a pomiciare Questi stavano in gula Oddio, sono esplosi Svitero in buco Sì, sì, bello, bello Allora Siamo tutti nei bughi del sorbetto Che c'è il bivio? Pum, fa il massimo, ragazzi Pum, fa il massimo Ebbene Pum, fa come pievele Video che è invece di Oh, era finita la missione Oddio no, l'acrobazia finale Dov'è? Qui Tanto non se ne capace Come si fa? Guarda, guarda Eh, mamma, che salto Quando se ne accorge? Ma c'è la cosa del qua Io infatti mi stavo guardando Per vedere se me ne accorge Ma non ce la faccio io Oh, no, no Stai zitto Guarda, vediamo se c'è Ah, c'è il cavo Ah, X salta il cavo Ah, questo testo Guarda, guarda che Premi il pene E Abbiamo finito Siamo in fondo E finisce un'altra missione Quindi ragazzi Io direi di chiudere anche qui il video Lasciate 200 pollici in su E facendo l'amore Esatto E lascio anch'io Cioè, lascio Cioè, il video del video anch'io E sì, fate l'amore con tutti Ciao Fate l'amore col sapore Ciao a tutti Ciao a tutti